Benvenuti all'imaging pod! Vi presento il nostro nuovo LIDAR consumatore usando il dot pattern illumination. Il design di riferimento è basato sul nostro sensore di 0.5 megapixel un 1.4 K dot progetto e un elemento ottico metasurale. Potete pensare cosa succede quando riempiamo un diffusor standard con un elemento ottico metasurale o MOE? Vi raccomando. È abbastanza semplice. La luce produzione dal Vexcel è focalizzata con un dot pattern e quindi lo chiamiamo il dot illumination. La luce riempirà il target nella scena e riuscirà al sensore con il stesso dot pattern. Vediamo la nostra demo. Questo è un processore di applicazione mobile e tutti i componenti software sono inseriti. Proviamo un piatto post-processing che funziona sul GPU e un driver per controllare il dispositivo. Come potete vedere nella scena è facile identifichere io e la stagione del film e le colombe sull'interno che sono 5 metri dal sensore. Ci sono molti avvantaggi a questo prodotto. Siamo che i nostri clienti avrebbero ad avere una mappa lunga di 3D. La dot illumination ci permette di riuscire a 10 metri con nessun aumento di consumazione di potenza. Quindi cosa succede all'interno? Questo è il secondo avanti della dot illumination di riuscire con l'ambiente 5 metri di riuscire è garantito anche nella luce più brillante. E finalmente il elemento di metasturface ottica ci permette di funzionalità e può anche riempire le lente complesse e multielemente e lo facciamo con il nostro processo di produzione standard che naturalmente mangia performance, size e costi Quindi vi ho mostrato il mondo integrato il dot lidar con un elemento di metasturface ottica perfetto per il mercato del consumatore i 14-100 dots permettono un più lungo in ambient light e consuma meno potenza e rende il sistema piacere se siete interessati a questo prodotto vedevi su ST.com o ringrazio al nostro prossimo servizio